Marco Chiara, intanto le prime sensazioni dopo il ritorno in campo, anche se per pochi minuti, però l'importante era tornare. Sì, diciamo che sto riprendendo la forma piano piano. Ho subito un intervento, un infortuno che mi hanno tenuto fuori per parecchio tempo, però piano piano sto rientrando. A proposito di infortuni, il tuo secondo infortuno è più legato al primo che hai avuto all'intervento alla spalla o poi è una cosa a parte quello che hai subito? No, è stato un guaio muscolare, non c'entra niente con la spalla. Ecco, questo infortuno, soprattutto il primo, ti ha costretto un po' a metterti da parte. Il mister puntava già dall'inizio, te l'ha fatto anche capire, facendo di partire titolare nella partita contro l'Ancona alla prima. Ti senti di aver perso un po' un'opportunità o adesso rientrerai per far vedere che comunque il mister non si sbagliava? No, è normale che stanno fuori parecchi mesi, si perdono delle occasioni, però ovviamente il mister prende le decisioni per il bene della squadra. Piano piano spero di tornare ad essere un punto importante per la squadra. Sei tornato in campo anche con nuovi compagni e ti devi trovare con altri movimenti. Che cosa sta dicendo questa seconda parte di campionato per il Pescara? No, indubbiamente stiamo facendo bene. Sono arrivati i giocatori importanti che insieme stiamo facendo bene per ora. I tuoi obiettivi quali sono da adesso alla fine della stagione? Ovviamente intanto cercare insieme alla squadra il terzo posto e poi? L'obiettivo è dare il massimo, aiutare la squadra con tutte le mie possibilità per cercare di arrivare a un obiettivo comune. Tu sei uno dei maggiori artefici della promozione con la primavera, adesso cercherai anche di portare qualcosa di positivo alla prima squadra, cioè tornare in Serie B. Quello è l'obiettivo fondamentale che ci siamo posti dall'inizio. Faremo il massimo, io farò il massimo. Ecco, per chiudere, domenica c'è una partita fondamentale col Ponte Terral, l'andata non l'avete fatto bene, avete perso, c'è stata un po' quella crisi avviata proprio da lì. Ecco, sarà tutt'altra partita, tutt'altra gara e tutt'altro Pescara soprattutto. Indubbiamente, da adesso in poi le partite saranno tutte allo stesso livello, tutte delle finali, perché comunque ci sono squadre che hanno obiettivi diversi dai nostri e puntano a vincere come dobbiamo farlo noi e quindi saranno tutte partite difficili. Per dar fiato anche agli altri compagni che hanno giocato di più, ti aspetti che potresti partire titolare o c'è bisogno ancora di più tempo? Sono scelte che prenderà il mister, per adesso non si sa niente, vedremo in settimana e sapremo di più. Grazie a tutti.